A.U. Schieramento. A.U. Schieramento. A.U. A.U. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Salviamo la vita agli altri, il resto conta poco. Il compiere paura non è ha. Il compiere paura non è ha. Portiamo il soccorso a chi ci chiede aiuto. Portiamo il soccorso a chi ci chiede aiuto. Un giorno senza rischio per noi è non vissuto. Un giorno senza rischio per noi è non vissuto. Il compiere paura non è ha. Il compiere paura non è ha. Anche se di notte suona la sirena, quando noi usciamo nessuno più ci frena. Quando noi usciamo nessuno più ci frena. Il compiere paura non è ha. Il compiere paura non è ha. Quando le fiamme avanzano non abbiamo timore. Portiamo Santa Barbara dentro il nostro cuore. Portiamo Santa Barbara dentro il nostro cuore. Il compiere paura non è ha. Il compiere paura non è ha.